Il Comune di Monte di Procida sta facendo tutto il possibile, noi siamo intervenuti subito, io sono stato chiamato stanotte dai cittadini che mi segnalavano non solo il rischio a Via Torre Gaveta ma anche in altri punti del paese. Deja vu per i cittadini fegrei che come nel dicembre 2014 si sono svegliati con il pericolo frane. Ancora una volta colpita Via Torre Gaveta che dopo la pioggia battente dei giorni scorsi e il temporale avvenuto alle prime luci dell'alba ha visto crollare una parte del manto stradale. Fortunatamente non vi erano automobilisti in transito in quel momento, circostanza che ha evitato la tragedia. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine che hanno immediatamente chiuso la strada ed evacuato quattro famiglie residenti in unità abitative limitrofe allo smottamento che oltre ad arrecare danni alla viabilità urbana ha danneggiato la rete fognaria, interessata ora da urgenti lavori di ripristino. Si dice dispiaciuto e preoccupato il sindaco Giuseppe Pugliese per la situazione nella quale versa il paese. Si preoccupato perché sicuramente siamo di fronte ad eventi meteo che non sono consoni nel bacino del Mediterraneo. Io poco fa mi consultavo con un esperto di meteo e mi diceva guarda devo controllare perché controllo e ricontrollo i dati e mi trovo quelli di una tempesta equatoriale, quindi ho bisogno di controllare i dati. Il primo cittadino parla anche di un'eccessiva densità abitativa aumentata negli ultimi anni a discapito di un terreno forse non adatto ad un'intensa urbanizzazione. Proprio tre giorni fa il via libera da parte del sindaco della città metropolitana Luigi De Magistris per il finanziamento di oltre 400 mila euro in merito a lavori di rafforzamento, riqualificazione e protezione della fascia costiera che interesseranno diversi comuni campani, tra i quali proprio Monte di Procida, in particolare la zona dove è avvenuto lo smottamento, a forte rischio idrogeologico. Una premonizione quindi? Assolutamente no. Un disastro annunciato, afferma il consigliere della lista civica Fare Futuro, Rocco Assante di Cupillo, che con interrogazione a dicembre chiese di valutare ulteriormente la decisione della riapertura della strada, poiché i lavori riguardanti il posizionamento delle barriere di cemento non erano stati eseguiti nel modo corretto. Obiezioni alle quali il sindaco risponde. Può essere che anche da altre forze politiche pervenne, possano pervenire delle proposte giuste, sagge, delle proposte utili a diminuire il disagio dei cittadini. Ad oggi Giuseppe Pugliese prevede difficoltà e sacrifici per la popolazione montese e non solo, poiché non si prevedono tempi precisi per la soluzione del problema, ma annuncia massimo impegno da parte dell'amministrazione nel risolvere con celerità la situazione e fa un appello alla comunità. Mi appello a tutta la città. Non è il momento della polemica, non è il momento delle strumentalizzazioni. Uniamoci tutti perché uniti possiamo fare la voce ancora più grossa e possiamo essere più forti. Grazie.